Buongiorno a tutti e benvenuti! E tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra Cambridge International e le vostre scuole. Il documento mirava a sottolineare come il Cambridge International sia in realtà un arricchimento importante del curriculum nazionale delle scuole. Il conforto di alcune scelte fatte bene, il conforto dell'appoggio da parte del Ministero. L'evento era molto organizzato, l'environmento era particolarmente stimolato. Il concetto del Curriculum di Cambria è una buona soluzione per il futuro dei nostri studenti. Un grande ringrazio alla british ambassador, Jim Morris, per il suo supporto e per il nostro posto. Grazie!